Nel Museo del Carcere Le Nuove di Torino ha trovato la propria stabile collocazione la mostra articolata nelle due sezioni Conforta e Intelligenza sul Movimento Femminile in Italia dal 1900 al 1946 e Dall'Uguaglianza la Differenza sulla Nuova Identità Femminile in Italia dal 1946 al 1999. La rassegna costituisce un importante documento e veicolo di conoscenza voluto dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte, realizzato con grande rigore da Aida Ribero. Grazie.